E che sarà, dai? Vai lì, ti pigli un po' di sole, eh? Guarda che quello è il posto giusto per te ora. Vuoi che gli dico qualcosa a tuo figlio, eh? Se proprio ha tanta voglia di curare i negri gratis, non è che c'è bisogno di andare tanto in là, eh? Sono di più qua ormai. Nia Landing, check your belt. Sarà le belt, pensa a guidar, mortazzi tua. Hai capito come si è piazzato il paragullo? Chi c'hai come infermiare Naomi Campbell? Lei conoscerai. Ci siano tutti i giorni. Ma ci sarà il gelato d'emergenza, no? Rotto. Ehi, dai. Bravo! Si può sapere cosa ti è venuto in mente? Ma sarà più importante avere scena energia elettrica che fa sei giretti in moto per le valli del Kenya, scusa, dai. Ci sono delle regole, e le regole vanno rispettate. Se non le rispetti, te ne torni a casa. Ma hai capito dove siamo? Ma guardati intorno, guardati. Ci avremo i container e la polvere, ma questo è sempre un ospedale. Io voglio gli ingurghi sul lungo tevere. Voglio la gricia, voglio... Voglio vedere giocare a Lazio. Pensami a storia di tutto. La moglie com'è? Un medico? Ci può servire, aiutare? No. Davvero non l'hai capito perché è venuto qui? Sei solo quello che ha risolto sempre tutto, fra cazzo i suoi, senza mai chiedere niente a nessuno. Come costituirmi? Ma che cazzo stai dicendo, Sergio? Pronto, Sergio? Pronto! Dice che questa ferita serve per ricordarti che se il bambino si fa male, tu ti fai male. Sì. Se si taglia, che ti tagli? Sì. Se muore. Ho capito, ho capito. Ma ti pare che mi dà la zaccagnata così, scusa? Per i Samburu la cicatrice è segno di bellezza, di leganza. Sti cazzi, da noi e te, da noi.